20 rosari nuovi in più e quindi ci hanno da strappare, ci hanno un bel da strappare e uno anche di San Francesco dal sindaco, grazie, grazie di cuore non è da tenere prezioso, però io vi dico che le camicie si ricontrano però è un gesto brutto di arroganza, di violenza strappare un simbolo oltre che religioso di cultura, di identità e di fede dal collo di una persona e io però sono convinto che la Toscana sia alto, sia bellezza, sia rispetto, sia ricchezza, sia generosità questa piazza ne è la dimostrazione